sarebbero 130.000 dollari per comprare il suo silenzio ebbene Michael Cohen, avvocato di Donald Trump, attuale presidente degli stati Uniti d'America avrebbe raggiunto infatti un preciso accordo con Stephanie Clifford che vi ricordo è una ex attrice a luci rosse infatti in base a quella che è l'intesa raggiunta a fronte del pagamento la bella donna non avrebbe dovuto parlare in pubblico di un presunto rapporto sessuale che avrebbe avuto con l'attuale presidente degli stati Uniti d'America Donald Trump di ciò ce ne informa il Wall Street Journal il quale avrebbe citato diverse fonti locali Trump vi ricordo che ha contratto il matrimonio con Melania Trump nell'anno 2005 vi ringrazio i simi utenti di Youtube per la visione anche per l'ascolto del presente video questo sarebbe quanto iscrivetevi se volete commentare ed un cordiale saluto a voi tutti